Terminiamo la carrellata delle funzioni dell'ambiente Scratch parlando dell'elemento più importante, uno degli elementi importanti che sono gli sprite. Gli sprite sono gli oggetti che possono essere programmati, ne possiamo avere uno su uno o più di uno, quando è selezionato lo vediamo in azzurro, abbiamo visto prima che cliccando su stage seleziono lo stage piuttosto che se clicco su sprite seleziono lo sprite. Per ogni sprite il predefinito vedete che è il gattino, anche qui per lo sprite abbiamo a disposizione una cosa interessante che sono le proprietà messe rispetto alla versione 3, sono state risistemate, devo dire in maniera anche interessante. Anche qui lo sprite può essere rinominato, il primo sprite si chiama sprite 1, ma io posso rinominare e scrivere ad esempio gatto, oppure micio, quello che voglio. Posso determinare la posizione del gatto, in questo caso, ad esempio scrivo x180, y-100 e naturalmente mi va in questo quadrante. Come dicevamo prima, xy è il nostro piano cartesiano all'interno dello stage, del nostro scenario, vi ricordo che è da più 240, meno 240, più 180, meno 180. L'unità di misura di questi punti nel piano cartesiano sono i passi. Poi lo riportiamo al centro, riindicando 0, ok, perfetto, ci va al centro. E poi ad esempio possiamo lavorare sulla dimensione, da 100 lo portiamo a 200, quindi lo riportiamo al centro, quindi possiamo lavorare sulla dimensione, non abbiamo bisogno di entrare in costumi e modificarlo. E la direzione, anche questo è un elemento importante, quindi oltre a determinare la posizione tramite xy, posso anche determinare la rotazione del nostro sprite. su un angolo giro da 0 a 360, con una piccola cortezza. Da 0,90, in questo caso il nostro personaggio sta puntando verso destra, se lo voglio far puntare verso sinistra devo dirgli meno 90, lasciate stare, poi tramite i blocchi si può lavorare sul fatto che ci sia o meno questa rotazione, piuttosto che nella rotazione che abbiamo visto adesso della direzione, possiamo con questi tre pulsanti andare a dire di utilizzare la rotazione sinistra-destra, in questo modo vedete che viene fatta una riflessione in orizzontale, invece in questo modo viene proprio ruotato, piuttosto che posso dirgli anche non applicare nessuna rotazione. Questa cosa della direzione e della rotazione si può tranquillamente comandare tramite i blocchi, anche la dimensione, quindi si può tramite il codice lavorare su queste proprietà e lo riportiamo in rotazione, allora 90-90 e per puntare verso il basso andremo a 180, possiamo anche scriverlo a mano, quindi se non ci troviamo con il mouse possiamo fare in questo modo, se invece lo portiamo a 0, punterà verso l'alto, ok? Ad esempio, 0 in questo modo punta verso l'alto, lo riportiamo a 90 in modo da farlo puntare verso l'estero. Mostra oppure nascondi, anche queste sono proprietà che troveremo, troveremo che possiamo comandare tramite i blocchi, in questo caso i blocchi dell'aspetto. Alcune volte può essere interessante nascondere un eventuale sprite, un oggetto che stiamo utilizzando in quel momento. Ok, anche qui abbiamo le nostre tre schede che abbiamo visto all'inizio, codice, costumi e suoni, per quanto riguarda i costumi e l'editor grafico che abbiamo visto prima con gli sfondi, si utilizza la stessa identica maniera, rispetto agli sfondi, il fatto che un personaggio abbia più costumi, ci permette di creare delle animazioni, un po' quello che si fa proprio con i cartoons, con i film d'animazione, vedete che seleziona anche in maniera non velocissima i nostri due costumi, vedete che ho questo effetto di movimento, questo effetto che può essere comandato con dei blocchi, quindi mettere in successione eventuali costumi, in questo caso ad esempio passa il costume seguente, continuerebbe a saltare dall'1 al 2 e così via, e creare l'effetto proprio di animazione. Anche qui vale tutto quello che abbiamo detto nel video precedente, posso rinominare, posso raggruppare, separare, portare avanti e indietro i vari elementi che utilizzo, anche qui posso lavorare con grafica vettoriale, che è quella predefinita, piuttosto che passare a una grafica bitmap. Anche qui però posso accedere a una libreria di costumi, vi faccio notare una cosa, che se io adesso vado a cercare, vediamo, eccolo qui, noi abbiamo solo due costumi, abbiamo Cat A e Cat B, ma abbiamo anche Cat Flying A e Cat Flying B, se io li seleziono, vedete che mi viene aggiunto come costume. Posso anche eliminare un costume, se io clicco sulla X lo elimino. Posso disegnare un nuovo costume, quindi abbiamo lo sfondo, abbiamo scusate il costume, senza niente, possiamo disegnare noi un costume, lo lascio perché voglio farvi vedere un'altra cosa, posso importarlo, piuttosto che come prima utilizzare la webcam. Una cosa interessante dei costumi, c'era anche negli sfondi, ma nei costumi la cosa si rende ancora più interessante, è data da questo mirino centrale. Il mirino centrale, adesso l'ho portato alle dimensioni predefinite, vedete che è là in mezzo, il mirino centrale ci indica proprio il punto centrale del nostro lavoro. Il punto centrale è proprio il punto da cui si genera sostanzialmente il movimento, quindi se noi abbiamo il nostro gatto, torno qui, e gli diciamo di mettersi in posizione 00, cosa succede? In questo caso il punto centrale è proprio il punto centrale del nostro gatto. Se noi prendiamo questo gatto, aumento un po' lo zoom, ho selezionato tutto il gatto, sposto il gatto in questo modo, quindi l'orecchio diventa essere il punto centrale, vedete che il gatto si è spostato. Se io faccio la stessa cosa di prima e gli dico cos'era, 130 mi sembra, e meno 100, vedete che si è spostato più in basso, perché il punto centrale del nostro sprite non è più il centro del gatto, ma all'orecchio. Quindi è il punto che serve per determinare la posizione proprio di movimento. Lo ripesco, lo risposto così, in maniera centrale, e vedete che insomma la posizione è diversa. Lo riporto a 00, in questo modo, eccolo lì al centro del nostro stage. Quindi quando noi disegniamo o lavoriamo con i costumi è importante anche tenere d'occhio questo mirino centrale. Rispetto agli stage c'è un comportamento diverso per quanto riguarda costumi e sfondi. Se noi lavoriamo qui, abbiamo visto che scelgo uno sfondo e viene aggiunto allo stage, come dicevamo, lo stage è uno solo. Viceversa, se sono all'interno del mio cancello questo costume vuoto, se sono all'interno del mio sprite e sono su costumi, clicco su questo pulsante aggiungerò un nuovo costume, se invece clicco su questo pulsante che visivamente vedete che è uguale identico, questo e l'altro pulsante che abbiamo nella nostra estrema sinistra è uguale, il comportamento è diverso perché in questo caso vado ad aggiungere un nuovo sprite. Aggiungere un nuovo sprite vuol dire aggiungere, ad esempio, metto Abby, vuol dire aggiungere un nuovo sprite, quindi in questo momento posso lavorare con quello che abbiamo chiamato Michio e con quello che ho chiamato Abby. Lo pesco dalla mia, dalla libreria che ci mette a disposizione Scratch, pescando Abby pesco anche tutti i costumi che trovo collegati con Abby, quindi quando pesco uno sprite della libreria, sostanzialmente importo dalla libreria uno sprite con tutti i suoi costumi collegati, se ci sono, non è detto, possono esserci anche degli sprite con un solo costume. Viceversa, se clicco di qui, aggiungo un costume allo sprite che ho selezionato. Per ogni costume poi posso dare i nomi. Anche qui posso disegnare un nuovo sprite, quindi se disegno un nuovo sprite avrò uno sprite 1 che poi posso rinominare e un costume 1. Un costume 1 come abbiamo visto poi possiamo aggiungere altri costumi. Lo elimino. Piuttosto che possiamo importare uno sprite, quindi l'oggetto che vogliamo utilizzare da programmare, lo possiamo importare sempre nel nostro computer. Se vogliamo fare delle animazioni possiamo o disegnare uno sprite animandolo direttamente noi, piuttosto che possiamo anche utilizzare ad esempio delle GIF animate. Le varie GIF importando una GIF animata viene trasformata in vari i vari movimenti della GIF vengono trasformati in costume. Attenzione anche lì che poi dipende poi dalla dimensione di questa GIF perché posso avere più o meno definizione nell'immagine quindi insomma stiamo attenti a questa parte. detto questo direi che non vi ho fatto vedere una cosa in tutti i vari pulsanti c'è questo pulsantino aggiungi uno sfondo sorpresa aggiungi uno sprite sorpresa aggiungi un costume sorpresa dove noi clicchiamo e ci pensi a scratch a cosa aggiungere quindi è un po' una funzione random. ultimissima cosa lo spostamento dello sprite noi possiamo anche prendere lo sprite e trascinarlo col mouse questo può essere interessante per determinare una posizione iniziale oppure per vedere ad esempio se metto il gatto in questo punto che posizione sono sono nella posizione X182 Y119 E'B invece clicco su E'B E'B invece è a meno 142 per la X e Y37 questa cosa può essere utile per determinare il punto e poi con i blocchi del movimento assegnare la posizione iniziale a cui deve partire di un'altra